Va bene Stefano, se volete proprio qua... Eh? Ok... Così facciamo proprio la scritta... No, è meglio così... Prego faccio 3-4 domande io, voi fate quello che volete così ce l'ho pulito io... Il Saint Candelat, il titolo dice tutto, voi siete leggenda, ci vuoi spiegare i contenuti di questo avvenimento? Sì, semplicemente o ringraziamenti a tutti i tifosi della città di Roma, di tutti quelli che mi hanno fatto sentire, non soltanto a me, a tutti la storia della Roma, non solo la storia, perché senza Tirolo ho passione alla stessa per calcio, però quando scende all'Olimpico con 80.000 persone è tutta una musica, quindi mi sembra giusto che anche se in un momento è difficile che qualcuno può essere diruso, che ci sono un po' di complicazioni, però l'ho detto prima, bisogna togliere l'orgoglio personale e andare avanti, perché comunicando è avere lo stesso oggettivo... Lo scopo è il beneficio, però? Lo stesso oggettivo è quello di aiutare i bambini a fare sport dentro la nostra città, di Roma, e quindi bisogna ricominciare, non pensare a quello che abbiamo fatto che è stato bellissimo sia ai tifosi sia ai giocatori, però andare avanti, trovare la soluzione per ricomportare e per quelle che hanno dimostrato l'amore per questa mano, e ricominciamo partendo magari dal 29 tutti insieme per l'oggettivo fare del bene a chi è meno fortunato per noi. Non possiamo non farti domande sulla qualità. Questo momento della Roma come lo vedi? C'erano delle aspettative diverse? Le aspettative sì. Quest'anno ci credevo tanto, dopo tutte le difficoltà che abbiamo avuto, sia in Coppa Italia ma anche in campionato, siamo su 84 punti. Quindi bisogna cambiare qualcosa, se no ci avremo sempre le stesse risultate. E quindi credo ancora a poter festeggiare fino a 4 punti. Ho visto l'Inter che ha giocato domenica. Noi non stiamo giocando bene, però neanche loro, e quindi ancora una chance ce l'abbiamo e ci voglio bene. Garzia sì, Garzia no? Io penso che Garzia sia, perché in una grande società non è il momento per cambiare l'Arena Toro, sarebbe troppo facile. Lui conosce il suo giocatore, conosce le sue difette personali e anche le sue difette della squadra. Quindi se quindi ci sono, penso e spero che riesce a cambiare per ritornare a quello che ci hanno fatto vedere le prime due anni. Esiste un caso Dzeko? Il caso non esiste in generale. Dzeko ha avuto difficoltà, è stato espulso, è stato un campione da arrivata. Quindi anche lui non è facile, io mi ricordo che Platini e Zidane nel primo anno non hanno fatto bene. Quindi Dzeko ha messo anche lui, bisogna lasciare un po' di tempo. Come ho detto, però adesso sono passati 6 mesi e anche lui ci doveva portare, perché la vittoria ci portano tutti. Dzeko, io penso a Totti, che da tre mesi non sentiamo parlare, pensa a tutti, sia in campo che fuori in campo, perché non è soltanto quando scende sul quadrale. Tutti i dettagli che fanno la differenza e per arrivare a vincere, io parlo per vincere. Quale è il reparto da rinforzare a gennaio? No, quello non è da me, ci sono la società, però penso che una reparto che partiene dai terzini al centrocampo, perché ancora Schottmann ci manca e non è tornato, e anche ha uno sulla faccia davanti. Anche la prima risposta, anche da un punto di vista caratteriale, contro il Genoa? La fondamentale vittoria e quello che mi è piaciuto è quando ha fatto il gol Florenzi, che sono andato intorno a Garcia. Io non posso immaginare e pensare che un giocatore forte come Florenzi, come ho sentito dire, che poteva aver fatto finta. Per me è tutta onestà e con grande rispetto che ha fatto questa braccia, quindi questa è la dimostrazione che comunque il gruppo sta con Garcia, perché se no non si faceva niente e nessuno faceva casa. E quindi da quella mi è ridata l'esperanza che la Roma può ancora festeggiare. Quanto è stato difficile portare il numero 32 dal campo a fuori dal campo? È sempre difficile quando si smette, però io ogni giorno quello che faccio lo faccio con passione, con emozione e con amore. E voglio essere più forte oggi che quando scendevi in campo. E quindi partendo da questo evento vorrei che rinascia l'amore che è sempre stato dalla parte di tutti per questo colore e tornare tutti a cantare dentro la nostra casa. Poi ho fatto il patentino, l'allenatore ho finito a maggio e quindi l'obiettivo è tornare a allenare in squadra d'Europa. E quindi non è difficile, è soltanto una questione dell'arattamento ed è capire il momento giusto e poi andare avanti. Hai parlato di Totti, tornerà in campo proprio per voi sia dell'eggenza il 29 dicembre, sarà in campo con voi, l'hai sentito, sta bene, ha recuperato. Cosa può comportare il rientro di Totti per il rilancio della stagione della Roma? Totti, come dicevo vent'anni fa, lui fa come voi. Quindi si può scendere, due minuti, dieci, mezz'ora. Sarà sempre un enorme piacere, il feeling che avevamo in campo e anche fuori al campo. Sarà veramente una grande missione per me di divertirmi in campo con lui. Totti è importante per la Roma, è un patrimonio del calcio italiano e anche della Roma. Quindi è stato male, però lui se è in campo che fuori da in campo, lui sa vincere, ha vinto. Quindi lui le sa portare a vittoria. Abbiamo bisogno di tutti. E quindi ovvio che senza il capitano non si può andare a nessuna parte. Ci sarà anche di Francesco nella partita del 29. Pensi che il prossimo anno dovrebbe essere la soluzione per la Roma? No, io non vivo del passato e non vivo neanche, io vivo i due giorni. Adesso non c'è senso di parlare. Sta facendo molto bene col Sassuolo e il mio amico sarà lì con noi. Però parlare lì, non so che rispondo, non mi sono fatto la domanda. Oggi non mi interessa, ci sono tanti allenatori e tanti amici con noi allenatori. Quindi non so perché dire. L'importante è che quest'anno finiamo bene e arriviamo a portare qualcosa a casa.